Gentili telespettatori, buona giornata tra giustizia, pandemia, difesa, fisco, catasto. I partiti corrono veloci e spediti verso le elezioni anticipate. Si susseguono sempre più spesso le indiscrezioni di Draghi pronto ad agosto a lasciare la carica di Premier. Intanto il declino di questo governo dei migliori è cominciato con Draghi che non è riuscito ad andare al Quirinale e il feeling tra loro, tra i partiti e Draghi è finito. Finita la luna di miele con la malcata poltrone al colle, un governo nato soltanto per impedire a Salvini di diventare Premier. Vi ricordate? C'è Covid, mi mando Draghi, ma come? Eh sì. Non è un governo nato soltanto grazie al Covid-19, o meglio, non è nato per il Covid-19, ma grazie al Covid-19 che è stata la scusa per non far votare gli italiani, avremmo avuto un governo Salvini 1. Forse è andata bene così, però questa è la realtà. Adesso questo Covid che sta piano piano andando via, piano piano, ancora non è andato, ma la strada è quella. Dagli inizi di febbraio l'unico alleato di Draghi vero è solo Mattarella. Tutti i partiti della maggioranza, senza escludere nessuno, hanno fatto di tutto per spazientire Draghi. Volutamente fatto in maniera inconscia e soprattutto fatto anche per mettere le bandierine che servono a far vedere all'elettorato, che loro sono ancora lì. Per questo che il malessere dei partiti, soprattutto quelli che nei sondaggi stanno precipitando, come Lega e Movimento 5 Stelle, si fa sempre più pressante. Berlusconi dice che arriviamo fino a fine legislatura. Se solo Salvini esce dal governo, i numeri probabilmente ci sono lo stesso per andare avanti. E Salvini non vuole uscire dal governo se il governo non cade. Lui vorrebbe far cadere il governo, ma non per causa sua. Vorrebbe che altri lo facessero cadere perché l'esperienza del papete 2019 probabilmente è una delle poche cose che ha appreso e proprio quella che chi fa cadere i governi perde voti. Naturalmente la discesa dal 35 al 15 non è solo perché ha fatto cadere il governo Giuseppi I, e poi quello è causa esclusivamente del suo comportamento. Intanto, con il risultato che Giorgetti poi diserta non solo la cabina di regia politica, ma anche i CDM, intanto diciamo che adesso le cose non sono come prima. Sono passate meno di due settimane e c'è un altro problema, dove i 5 stelle puntano i piedi sul super bonus. Attenzione! I 5 stelle puntano i piedi sulle loro riforme fallimentari, come se non capiscono realmente che le cose che loro fanno creano un problema. Il reddito di cittadinanza è stato fatto in maniera talmente maldestra che sono centinaia di migliaia i soggetti che truffano lo Stato. Centinaia di migliaia. Un decreto fatto in quel modo lì, fatto da persone inesperte, da politici per caso, hanno fatto un decreto, una legge, quella del reddito di cittadinanza, assolutamente fatta male, che si presta a ricevere truffe di tutti i tipi. Poi, con la stessa superficialità e incompetenza, hanno fatto il super bonus. Altro disastro. Il super bonus è diventato il provvedimento, la legge, che ha portato le più grandi truffe ai danni dello Stato. Si parla addirittura di 6 miliardi di euro di truffe. Una cifra spaventosa, se ci pensate bene. E loro insistono ancora nel mantenere queste leggi fatte in modo che lo Stato sia truffato. Non volutamente, ovviamente, ma sono state fatte in modo così superficialotto che sono tremende. A loro puntano i piedi sul super bonus, senza capire il disastro che hanno provocato all'Italia. Più che super benefici, è venuta una super truffa ai danni dello Stato. Il PD scivola sui fondi all'Ilva, la Lega va contro il Green Pass, la durata dello Stato di emergenza nelle ultime settimane. Draghi si innervosisce e dice che il governo è qui per fare le cose, la maggioranza deve garantirgli i voti in Parlamento, altrimenti non si va avanti, diceva Draghi solo qualche giorno fa. Per Draghi, per il Premier, è arrivato, il vaso è pieno. Un'altra mezza cosa è... o, oppure, meglio, l'acqua è già fuori dal vaso. Il fatto è che Draghi vuole prima magari mettere e fare la finanziaria e poi approvare le ultime riforme e ad agosto salutare tutti. In queste condizioni così diventa impossibile governare. La maggioranza si spacca sulla riforma del Catasto, la Lega minaccia da oggi mani libere, no? Come diceva Maccio Capatondo in uno dei suoi brevi film Cioè, c'ho i pugni nelle mani, vi ricordate, no? Maccio Capatondo. La Lega c'ho le mani libere. Draghi è abbastanza amareggiato. Si è trovato di fronte a questi che non l'hanno mandato al Quirinale. Si è trovato di fronte a una professionalità di questi partiti, questi capi politici praticamente che rasenta lo zero, lo zero assoluto. È rimasto abbastanza deluso da che cos'è la politica in Italia. E il governo continua ad andare avanti a colpi di chiarimenti. Chiarimenti schiarite e perturbazioni nuove. Tutti minacciano, tutti sono in piena campagna elettorale. Tutti vorrebbero che finisse questo governo ma aspettano che sia l'altro a farlo cadere. E così nessuno lo fa. Vedremo se veramente a questo punto l'unica soluzione è che Draghi se ne vada e dica ad agosto arrivederci e grazie, saluti e baci, auf Wiedersehen, goodbye, hasta luego. Speriamo che sia così che ci regali questa gioia, regalaci questa gioia Draghi. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.